Rai Pubblicità per il quinto anno consecutivo, ossia dalla nascita di Best Brand, è al fianco di questa iniziativa che, ricordiamo i nostri telespettatori, coniuga la performance commerciale che i brand hanno sul mercato con il sentiment, il valore emotivo ed emozionale che suscitano presso i consumatori. Quindi è un connubio di mercato ma anche di cuore e che è poi alla fine il segreto del successo di ogni marca. Qual è il contributo che Rai Pubblicità dà alle marche perché possono avere successo nel mercato ma anche nella testa e nel cuore dei consumatori? Io partirei dal elidere il ma, nel senso che percorso di marca, cuore, sono lungi dall'essere elementi che, come dire, in qualche modo in contrapposizione sono invece elementi da integrare e crediamo che Rai Pubblicità come parte del servizio pubblico sia proprio su questa lunghezza d'onda. Faccio riferimento al servizio pubblico perché per noi è una parte del nostro posizionamento fondamentale, nel senso che parlando di contrapposizioni, spesso e volentieri si contrappone il mercato, la pubblicità con il servizio pubblico. Noi al contrario riteniamo che prestare un servizio alle aziende sia parte integrante del servizio pubblico. Quindi partiamo da lì, nel senso che già noi... Significa anche sviluppare l'economia del paese. Assolutamente, voglio dire, non ci dimentichiamo che due terzi del nostro fatturato deriva dal canone, quindi evidentemente ci sono anche degli obiettivi che vanno oltre la pur importantissima performance commerciale. Quindi questo è un dato di partenza. Per arrivare al nostro specifico è molto interessante quello che sta avvenendo in questi anni perché è come se ci fosse una sorta di... quasi una polarizzazione tra il mondo della performance, che evidentemente lavora sugli strati bassi, diciamo, del funnel, ammesso che il vecchio funnel esista ancora, però, insomma, per usare una semplificazione giornalistica, diciamo, e invece tutta la parte del quello che viene chiamato all'anglosassimo lo storytelling delle aziende. Proprio in queste settimane le aziende fanno le strategie e quello che mi raccontano è sempre questa... ovviamente in un periodo in cui i budget non sono necessariamente in aumento, sempre il necessario trade-off tra la parte di performance e la parte invece di storytelling, che per alcuni settori sta diventando fondamentale. Pensiamo al tema della sostenibilità. Se una marca non è in grado di raccontare qual è la sua posizione e il pubblico se lo aspetta, il consumatore se lo aspetta, si aspettano coraggio e prese di posizione. Quindi in questo ambito noi riteniamo di aiutare un'armonizzazione perché abbiamo la qualità del contenuto, quindi ambiti in cui effettivamente questo discorso di storytelling è particolarmente interessante, ma dall'altra parte stiamo facendo investimenti sul digitale molto significativi. È di questi giorni proprio freschissimo il successo di Fiorello che credo che sia l'emblema di come contenuto, empatia, emotività, poi possono essere evidentemente coniugati anche con il numero, il digitale e la performance. Bene, effettivamente i valori della marca cambiano, assumono nuove connotazioni, c'è anche una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei valori che afferiscono all'ambiente anche dove il consumatore vive, quindi questo implica un nuovo approccio da parte delle aziende nei confronti delle marche stesse. Quest'anno lei consegnerà il premio e presenterà la shortlist del best product brand, della miglior marca di prodotto. L'anno scorso a vincere è stato un brand come Lego che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, è una comunicazione, è un approccio anche molto intelligente. ecco, quindi lei cosa si aspetta che possa succedere quest'anno? Che aspettative ha nei confronti delle marche, nel loro approccio al mercato e ai consumatori? L'aspetto che secondo me, ripeto, a noi piace Best Brands proprio per la sua caratteristica che mi sembra di capire è abbastanza unica, è una ricerca, quindi ha quell'aspetto, credo che sia anche il motivo per cui Uppa poi l'ha sposata fin dall'inizio. Quello che a noi interessa, diciamo, a me personalmente interessa vedere il tasso di variabilità all'interno, non semplicemente di chi vince perché è ovviamente un anno, ma all'interno della shortlist. Secondo me quello è l'aspetto più interessante perché noi... Ma che si muovono? Beh sì, perché voglio dire, noi non a caso chiamiamo il nostro lavoro investimenti pubblicitari, non li chiamiamo spese pubblicitarie o spese nel quarter pubblicitarie, quindi il fatto che sia un investimento evidentemente anche dal punto di vista finanziario significa che bisogna capire che ritorno ha nel corso di più esercizi, questa è la definizione diciamo di scuola, da ragione via. E quindi per me la prima cosa da vedere è se effettivamente c'è stabilità o no, perché se c'è stabilità significa che effettivamente l'investimento è qualcosa che poi uno si deve ritrovare nel corso del tempo. Se c'è grande variabilità vuol dire che le posizioni sono contentibili e quindi voglio dire ci sono altri ragionamenti da fare. Quindi quello secondo me è l'aspetto più interessante. Parliamo di Rai Pubblicità, dove lei è arrivato dallo scorso febbraio, quindi è un periodo congruo di tempo per fare un primo bilancio. Quelli che ci sono passati, ne sono passati anche di più. È possibile fare già un bilancio partendo da quello che è stato il suo personale contributo, cioè come ha desiderato cambiare la concessionaria? Devo dire che la base che ho trovato è molto solida dal punto di vista proprio ideologico, nel senso che secondo me anche le concessionarie come gli editori hanno bisogno di un'infrastruttura ideologica e di valori. E mi sono molto ritrovato in quello che già Antonio Marano come Presidente aveva disegnato. Quindi l'idea di costruire una concessionaria che fosse veramente parte del servizio pubblico, da una parte, e parte del mercato, scusa il gioco di parole rispetto alla costruzione di un ponte nei confronti delle aziende. Ripeto che per noi è un dovere che va oltre la performance commerciale. Performance commerciale che poi noi stiamo sostenendo avendo dato più solidità, abbiamo ristrutturato sia la parte clienti che la parte agenzia, l'agenzia con Giancarlo Cani e la parte di clienti con Giulia De Carli. Un grosso investimento sul prodotto, prodotto pubblicitario che evidentemente deve consentire di portare i valori del nostro contenuto al mercato e quindi la parte di progettualità. Abbiamo una nuova direzione iniziativa speciale con Laura D'Ausilio. Abbiamo portato Antonella Di Lazzaro che lavorava con me in Rai per tutta la parte di trade marketing. Trade marketing che è fondamentale per chi fa dei contenuti come i nostri, perché il calore, di nuovo l'empatia, si costruisce anche mettendo in contatto chi è responsabile di una marca con gli ambienti in cui quella marca poi deve andare a vivere. E poi tutta la parte digitale. Noi Fiorello, al di là dell'interesse dal punto di vista media, per noi è stata un'opportunità veramente significativa. Infatti in questo senso l'approccio che lei ha voluto dare, almeno da quello che ho potuto vedere, è di una concessionaria multipiattaforma che sfrutta pieno tutte le potenzialità e le grandi possibilità che la Rai ha di comunicare non solo ai telespettatori ma anche alle aziende, cioè le opportunità che le aziende hanno di comunicare attraverso i canali. È quello della multipiattaforma l'elemento più significativo del nuovo corso Rai, pubblicità? Diciamo che sì, ma devo dire che non servivo io per dire che la progettualità olistica, se vogliamo parlare, è la chiara. Termina me caro, come sai. Esatto, quindi sì assolutamente, però poi al di là delle dichiarazioni di principio poi le cose bisogna farle. Quindi noi ci siamo focalizzati su tre elementi sostanzialmente. Innanzitutto la copertura, perché in un mondo così frammentato riteniamo che la copertura sia il valore che noi riusciamo a portare contrariamente a chiunque altro evidentemente che non può lavorare sui numeri con cui lavoriamo noi. Copertura peraltro poi ulteriormente migliorata e resa più qualitativa dalla parte digitale. Quindi è le grandi coperture della televisione generalista, più le specializzate, più la radio, più il digitale. Quello è il primo. Il secondo è la qualità dell'impaginazione. È un dato di fatto, noi siamo bombardati dai messaggi pubblicitari. Il fatto di avere l'80% di pubblicità in meno rispetto questo non perché siamo bravi, perché semplicemente il contatto di servizio prevede che sia così. Quindi avere l'80% di pubblicità in meno significa impaginare con più attenzione e dare molta più visibilità ai messaggi di marca. E poi è quello che dicevamo prima, rispetto alla qualità del contesto. Se voglio parlare di sostenibilità devo anche capire bene in che contesto. Mi sembra che ultimamente si parli sia di teste, di performance, ma tanto anche di contesto. Perché se voglio articolare il mio pensiero come marca sulla sostenibilità devo anche capire dove lo faccio, in che contesto, in che condizioni, con quali volti, eccetera. Continuiamo un po' su questa linea dicendo che quest'anno viene introdotta una nuova categoria, la Best Digital Life Brand, che sarò anche onorato personalmente in quanto cofondatore di questa iniziativa di premiare. Cioè la categoria che premia le aziende che accompagnano i propri clienti è la Digital Transformation. Ora, lei è stato, prima di arrivare a guidare la RAI Pubblicità, responsabile digitale di RAI, quindi è una domanda retorica se vogliamo, però è importante dirlo anche perché l'Italia, ricordiamoci, ha un Digital Divide molto ampio rispetto agli altri paesi europei. Ecco, come quando la RAI insegnava gli italiani a leggere, a scrivere, adesso ha quest'altro compito, credo. Sì, io devo dire che sono molto deluso dal risultato, nel senso che evidentemente anche noi come RAI che abbiamo da mandato proprio quello di accompagnare il pubblico, i nostri clienti sono anche quelli che ci guardano, noi come tutti i business a doppio mercato. Quindi in realtà noi speravamo di vincere evidentemente perché anche noi facciamo parte della Digital Life. L'aspetto del Digital Divide per noi è fondamentale, noi siamo reduci da una operazione molto bella che è l'Internet Day, in cui il 29 ottobre, compleando l'Internet, tutta la nostra programmazione è stata destinata, perché attraverso le nostre reti passa la sfida al grande pubblico. È chiaro che rispetto a alcune fasce della popolazione, parlo ad esempio degli Z, il tema è quella consapevolezza digitale, cioè quali sono le implicazioni a lungo termine di un mondo che ti valuta in 30 secondi. Queste le cose che raccontiamo ai nostri figli e che sono fondamentali. A noi le istituzioni e la società guarda nel momento in cui dobbiamo recuperare il 25% di popolazione che invece in questo momento è esclusa. E crediamo che questa operazione spericolata che abbiamo fatto portando Fiorello, che è il campione del generalismo, in esclusiva su una piattaforma, ne parlavamo anche prima preparando questa chiacchierata, chi ha dei genitori un po' non tanto digitalizzati, comunque ha trovato in Fiorello anche una chiave di volta per parlare ad esempio di televisioni connesse. Del fatto che la televisione connesse potesse essere la porta verso il grande pubblico se ne parlava, ad esempio io lavoravo in Telecom Italia 15 anni fa. Siamo arrivati, perché adesso tutte le televisioni sono connettibili. A noi le istituzioni guardano per rendere le televisioni connettibili realmente connesse, che è una bella sfida ancora. Bene, allora ci diamo appuntamento alla serata del Best Brands, per il momento è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.